Molto spesso ci sono espressioni inglesi che nel mondo dell'economia non si capiscono fino in fondo. Una di queste la esaminiamo oggi con Massimo Guerrieri di Q Consulenze Finanziarie, il Quantitative Easing. Di cosa si tratta? È una manovra che le banche centrali in questi ultimi anni di crisi stanno mettendo in atto per dare una mano all'economia reale, ovvero comprare titoli di Stato e obbligazioni per immettere moneta, denaro fresco sui mercati in modo da incentivare l'economia reale. Questo è stato fatto negli Stati Uniti ultimamente, anche in Europa? È proprio di questi giorni un documento del Fondo Monetario Internazionale che verrà presentato in questo weekend al G20 dove chiederà alla BCE di iniziare anche in Europa questa manovra. Il Giappone l'ha appena fatta un mese fa portando a 521 miliardi di dollari questa emissione di nuova moneta. Questo ha ripercussioni sulle imprese e anche sulle famiglie o soltanto per lo Stato? Diciamo che finora i rischi di queste manovre sono molteplici, ovvero a fronte di uno scarso impatto sull'economia reale il rischio vero e proprio a cui stiamo assistendo e che sempre di più ci viene messo di fronte, come il Ministro delle Finanze Schobel nell'ultimo G20 ci ha ricordato, è la creazione di una bolla speculativa, ovvero questa enorme massa di liquidità, se non riesce a incentivare la ripresa, quindi i consumi, rischia di alimentare i mercati finanziari. E questi mercati finanziari, crescendo non sostenuti dall'economia reale, ma solamente per l'eccesso di liquidità, tendono a formare una bolla speculativa. C'è un grafico che è molto significativo da questo punto di vista, una linea rossa e una linea blu che si distanziano sempre di più, che cosa vogliono dire? Sì, questo è molto intuitivo. La linea blu è il grafico dell'indice SP500, che è l'indice americano più rappresentativo, cioè le 500 aziende più grandi per capitalizzazione al mondo. L'indice rosso è il grado di indebitamento. Come possiamo vedere, nei picchi che ha avuto l'indice, agosto 2000, bolla della tecnologia, agosto 2007, bolla Mutui Suprime, e oggi, che siamo sui massimi storici, corrispondono a un aumento, anche lì, a livello di record, per quanto concerne l'indebitamento. Quello che fa un po' specie e anche deve destare un minimo di preoccupazione è che se notiamo oggi i livelli di salita, di ripidità della curva dell'indice azionario, ma anche dell'indebitamento, sono a dei livelli di allarme. C'è chi dice che in questo momento, con queste manovre di quantitative easing, le banche centrali, più che risolvere i problemi, stanno comprando del tempo, guadagnando tempo.